La sua sicuramente è una nomina pesante perché è in un'azienda municipalizzata importantissima anche del mezzogiorno d'Italia, ma che paradosso? Lei che non voleva AMIU oggi invece nell'amministratore. Il problema non è volere o non volere AMIU, io ritengo che una città come Foggia, che ha 150.000 abitanti in un capovolo di provincia, potesse e dovesse avere la sua società di gestione del settore dei rifiuti. Una scelta quindi di carattere identitario. Ecco, nel momento in cui questa società è nata, l'amministrazione Landella ha il dovere di nominare giustamente i suoi rappresentanti insieme a la proposta di amministrazione e io sono onorata di andare a rappresentare la città e l'amministrazione nel ruolo che mi competa, cioè quello di consigliere di amministrazione. Sarà anche un cane da guardia perché la sua esperienza, la sua anche professionalità spesa in amica la porta oggi a conoscere benissimo a cosa vuol dire gestire i rifiuti. Quindi Landella probabilmente ha fatto su di lei un grosso investimento anche per tenere a bada quello che è cadenami o no? Io mi auguro di essere all'altezza delle mie aspettative, è un'esperienza nuova alla quale mi avvicino con grande umiltà e spirito di servizio. Abbiamo da difendere i soldi che i cittadini pagano per questo servizio e dobbiamo lavorare perché quei soldi ritornino ad essere una soddisfazione per i cittadini che hanno diritto appunto di sapere per che cosa hanno investito in una tassa che non hanno moltissimo. Certo, quella del Comune di Foggia è una partecipazione minoritaria, il 30%, ma lei si è fatto qualche idea di come contribuire anche a migliorare a Foggia per esempio il servizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione? Attendo di leggere le carte, di sapere qual è il piano organizzativo, di quali sono i settori di investimento, attendo di leggere le carte prima di poterlo pronunciare.